La F1 è mancata dal Messico per 23 anni e ora analizziamo la griglia di partenza. Grazie al giro perfetto di ieri, Kimi Raikkonen parte dalla pole position e Lewis Hamilton completa la prima fila. E ora vediamo il resto della griglia. Bottas, Verstappen, Fernando Alonso, Leone, Ricciardo, Holkenberg. In seguito a problemi di affidabilità hanno fatto fatica a massimizzare le prestazioni. Perez e Carlos Sainz, Gasly, Ocon, Kevin Magnussen, Hartley, Van Dorn, Rojan, Charles Leclerc e Marcus Erikson. Stroll e Sergei Sirokin completa la griglia. Possiamo ancora vincere il campionato costruttori. Regalaci il titolo con le ultime tre gare. Regalaci il titolo con le ultime tre gare. Hai urtato un'ala anteriore. Il danno non sembra grave ma cerca di non peggiorare la situazione. Regalaci il titolo con le ultime tre gare. Ok, hai avuto un ottimo inizio, ci troviamo in una buona posizione. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!